La morte del Cristo che si ripresenta per una maggiore e più cosciente comprensione dei fatti e dei valori che essa significò. Lo scorso anno Canale 88 ha filmato la Via Crucis a Castelvenere. Quest'anno ha ripreso la passione che si è voluta rappresentare a Guardia San Framondi. Ricordiamo che qualche decennio fa la Proloco fece rivivere questa manifestazione. Oggi invece sono stati ragazzi dell'azione cattolica ad attivarsi. Seguiamo le varie scene rappresentate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.